buongiorno a tutti sono alberto canepari cofondatore partners di gcp gcp è una società di consulenza che ha sede in veneto ad asolo e nelle marche a civita nova ci definiamo specialisti per le pmi operiamo in quattro ambiti principali e cioè l'ambito dell'organizzazione snella della lin dove siamo nati e che tuttora rappresenta la nostra divisione e i nostri servizi principali ambito della organizzazione snella in senso ampio cioè non solo produzione snella ma anche uffici snelli pianificazione snella ufficio tecnico snello l'ambito del sviluppo del business e quindi da una parte che lavora in ambito strategico e dall'altra anche in operativo dando una mano alle pmi a entrare nei mercati internazionali l'ambito della delle persone delle risorse umane che lavora in ambito con competenze relazionali e quindi per migliorare la comunicazione le relazioni fra le persone che operano all'interno dell'organizzazione e dall'altra parte che opera nell'organizzazione della funzione risorse umane infine l'ambito dei contributi e finanziamenti alle imprese oggi parliamo di un tema a mio modo di vedere estremamente interessante cioè del programma life di un programma dell'unione europea della commissione europea che finanzia delle attività che enti no profit enti pubblici e aziende possono fare per migliorare la sostenibilità ambientale prima prima di entrare in dettaglio su questo programma volevo farvi una breve introduzione però sui temi green e sui temi lin ho precisato prima che dal 2008 come gcp ci occupiamo di portare i principi e le metodologie della lean nelle pmi del nord est da quell'anno abbiamo realizzato molti progetti con tante aziende e abbiamo visto che la lotta ai famosi sette sprechi per chi è familiare con le tecniche le metodologie lean porta dei buoni benefici dei buoni benefici sulla produttività sull'efficienza sull'efficacia sul miglioramento del servizio ma anche dei buoni benefici abbiamo sperimentato in termini ambientali quindi oltre ai famosi sette sprechi che la lean combatte possiamo lavorare sempre con i metodi lean anche su un ulteriore un ottavo spreco che è rappresentato dagli sprechi ambientali da questa convinzione poi è nata nel 2013 la metodologia lean and green quali sono le basi di questa metodologia alcuni punti di fondo sono questi innanzitutto i problemi ambientali riguardano tutti impattano sulle nostre vite e sul business delle nostre aziende dunque bene che si parli di tematiche ambientali a livello mondiale a livello di ONU a livello di Unione Europea a livello di Governo Italiano a livello di Regione Veneto ma attenzione che queste stesse tematiche ambientali riguardano noi come privati e noi come operatori e persone che lavorano all'interno delle aziende e quindi possiamo noi stessi come lavoratori o noi stessi come privati cittadini dare un ottimo contributo fortunatamente parecchia strada è stata fatta nel tempo quindi che cosa vogliamo fare con il lean and green? diminuire gli sprechi e l'impatto ambientale da una parte delle nostre organizzazioni aziendali ma dall'altra aiutare le aziende a cogliere le opportunità e i benefici che ci possono essere oggi da questa attenzione all'ambiente infatti noi pensiamo che non sia possibile ridurre l'impatto ambientale su vasta scala di per sé non bastano i buoni propositi e la buona volontà di poche persone, di associazioni, di enti no profit i temi ambientali devono, se vogliamo che diventino fondamentali per l'agenda di ogni organizzazione aziendale devono portare anche dei benefici economici altresì siamo convinti che dobbiamo iniziare un cammino un percorso organizzato che potremmo chiamare un piano di transizione non è possibile fare tutto e oggi per ridurre i costi e l'impatto ambientale delle nostre organizzazioni aziendali ma quello che possiamo fare è definire un percorso darci un obiettivo e realizzare questo percorso di riduzione dell'impatto ambientale nel tempo inoltre dobbiamo essere per primi noi e quindi qui ci metto anche l'organizzazione a cui appartengo e che ho contribuito a fondare, cioè GCEP dobbiamo essere primi noi a dare l'esempio come azienda e come singoli qui, nel contesto in cui ci troviamo ed ora, cioè a partire da oggi allora che cos'è il Lean & Green? il Lean & Green è un insieme di principi e di strumenti che abbiamo elaborato nel tempo e che devono aiutare le aziende in modo semplice e concreto a, uno, comprendere i fenomeni ambientali quelli macro ma soprattutto quelli che impattano sulla nostra organizzazione aziendale misurarli noi pensiamo che, e lo dico sempre in tutti i webinar cui sono invitato come relatore noi pensiamo che misurare sia il primo passo per migliorare tre, ridurre il proprio impatto ambientale quattro, trarne dei benefici dei benefici di natura economica il Lean & Green ha sette pilastri da sinistra verso destra il primo pilastro il Lean & Green deve avere un impatto sulla strategia e sull'organizzazione aziendale questo è il modo per riuscire ad ottenere i risultati migliori il Lean & Green deve riguardare il modo in cui progetto penso prima e poi progetto i nuovi prodotti perché l'80% dell'impatto ambientale sull'intero ciclo di vita di un prodotto è dato da come questo prodotto è stato progettato il Lean & Green, punto 3, pilastro 3 entra nella fabbrica e punta a realizzare una fabbrica ad impatto zero è una tensione verso l'impatto zero ovviamente non possiamo portare le emissioni e l'impatto ambientale di una fabbrica a zero ma possiamo avvicinarci il Lean & Green lavora anche come quarto pilastro sugli uffici è chiaro che l'impatto ambientale degli uffici delle attività di uffici di ufficio rispetto alle attività manifatturiere di trasformazione produttivo è più basso ma non per questo gli uffici devono essere esentati da un'attenzione particolare alle tematiche ambientali il Lean & Green è anche una logistica più verde dove per logistica intendiamo un'attenzione alla selezione dei fornitori di un certo tipo valutando anche il loro impatto ambientale la gestione dei magazzini quindi solitamente la logistica interna e naturalmente il tema dei trasporti per portare le merci dai nostri clienti il sesto pilastro Lean & Green è coinvolgimento delle persone questo è un aspetto importante perché noi dobbiamo partire da creare la sensibilità verso queste tematiche far capire la convenienza di affrontare queste tematiche a livello aziendale e coinvolgere le persone su queste tematiche magari costituendo dei gruppi di lavoro interfunzionali che hanno lo scopo di lavorare sulle tematiche Lean & Green infine Lean & Green e arrivo al settimo e ultimo pilastro è misurazione del proprio impatto ambientale nell'ottica che misurare è il primo passo per migliorare e anche qui ci possono essere diversi indicatori per per misurare questo impatto ambientale che cosa significa poi Lean & Green? Lean & Green significa prima di tutto formare le persone noi pensiamo che sia necessario creare un linguaggio comune diffondere la cultura ambientale fra i lavoratori e le lavoratrici che operano nelle organizzazioni aziendali conquistare il cuore delle persone su questi temi e questo è il primo passo per portare avanti una rivoluzione verde all'interno delle nostre organizzazioni e per questo abbiamo pensato 10 webinar in questo momento di Covid proponiamo tutte le attività di formazione in modalità webinar o workshop quindi fatte in presenza e di cosa parlano questi webinar o workshop? di tematiche a mio modo di vedere interessanti e attuali facciamo un breve scursus un primo webinar workshop introduzione al Lean & Green quindi si trattano i temi ambientali oggi che riguardano anche noi stessi per esempio oggi mi trovo in Veneto quindi riguardano anche l'aria che respiriamo nella nostra regione piuttosto l'acqua che beviamo piuttosto i rifiuti che produciamo si traccia la differenza tra quella che può essere un'economia lineare e un'economia circolare si guardano le opportunità che ci sono per le aziende perché l'ho detto prima è fondamentale che al di là dell'impatto ambientale la riduzione dell'impatto ambientale ci sia una convenienza nel porre al centro dell'attenzione le tematiche ambientali per un'azienda si guardano i principi e gli strumenti Lean e come impattano questi sulle prestazioni ambientali si introducono i pilastri della metodologia Lean & Green che ho brevissimamente appena presentato secondo webinar la fabbrica a zero emissione misurare il primo passo per migliorare si fa una disamina di tutti quelli che possono essere gli indicatori che vanno per la maggiore per misurare il proprio impatto ambientale si parla di Overall Sustainability Ratio si parla di Carbon Footprint eccetera Terzo l'Energy Management and Reduction Program l'energia oltre oggi ad essere un tema soprattutto a livello di costi energetici un tema di forte attualità l'energia comunque e il consumo di energia hanno un impatto importante soprattutto nel settore manifatturiero in termini di emissione di CO2 la riduzione dei consumi energetici porta a una riduzione dei costi e una riduzione dell'impatto ambientale sul tema dell'energia non tutte le aziende hanno delle necessità uguali perché ci sono aziende che hanno un'intensità energetica più ampia e allora l'attenzione ai temi energetici deve essere superiore ci sono aziende che hanno un'intensità energetica quindi un impatto dei costi energetici sul fatturato più basso e di conseguenza anche l'attenzione può essere inferiore anche qui a seconda del livello di intensità energetica si può pensare a un modello di riferimento per ogni azienda nella gestione delle tematiche energetiche altro tema fondamentale oggetto secondo noi che deve essere oggetto informazione il tema dei rifiuti anche qui i modelli che si possono applicare sono differenti perché possiamo andare dalla semplice adeguamento alle disposizioni di legge che per carità non sempre è semplice a una gestione virtuosa che porta alla riduzione della produzione dei rifiuti oppure al ridare vita ai rifiuti che si producono nel proprio ciclo produttivo piuttosto che nel ciclo produttivo di qualche un altro a cui i miei rifiuti possono servire il tema della progettazione e quindi innanzitutto capire qual è l'impatto sul ciclo di vita dei miei prodotti e specialmente dei nuovi prodotti e dopodiché applicare tecniche e metodologie che possono arrivare dalla Lean allo sviluppo di questi nuovi prodotti il tema di come scegliere materiali a più basso impatto ambientale oggi molte possono essere le scelte ci sono delle tematiche di costo ma ripensare ad alcuni materiali specialmente direi perché è anche più semplice la parte che riguarda gli imballi può avere un impatto rilevante in termini ambientali il tema del marketing perché noi facciamo l'ho detto prima noi lavoriamo sulle tematiche green ma dobbiamo ottenerne dei benefici che possono essere dei benefici in termini di costi possono essere dei benefici in termini di immagine possono essere dei benefici in termini di comunicazione piuttosto che proprio essere dei benefici anche in termini di vendite e di qui il ruolo del marketing il tema degli uffici perché anche gli uffici possono lavorare per diventare degli uffici paperless e plastic free piuttosto che si può lavorare specialmente sul tema degli uffici sull'abbattimento delle emissioni derivanti dal cosiddetto pendolarismo cioè il fatto che una persona debba raggiungere con dei mezzi più o meno inquinanti il posto di lavoro il tema della logistica che è fondamentale soprattutto per quello che riguarda i trasporti ed è un tema particolarmente critico in questo momento piuttosto che il tema dei grandi frameworks cioè di quei grandi progetti a livello europeo che possono avere un impatto sulla vita di noi come privati piuttosto che come aziende quindi conoscere quali possono essere gli impatti del PNRR delle Ugreen Hill e nel Fit for 55 che siamo abituati a conoscere come delle sigle può essere importante infine optional ma altrettanto è importante capire come il proprio stile di vita in termini di mobilità in termini di alimentazione in termini di cosa acquisto in termini di abitazione di casa eccetera come il mio stile di vita può impattare sulle prestazioni ambientali e può avere un impatto positivo sull'ambiente ecco quindi secondo noi e qui ho voluto fare un escurso è importante partire dalla formazione dal creare un linguaggio comune dopodiché lean and green non è solo formazione significa accompagnamento verso la consapevolezza ambientale a vari livelli per esempio da quattro mesi stiamo proponendo e per chi vuole è disponibile dal nostro sito genesincanepari.com un questionario di autovalutazione molto semplice ma anche completo che ci aiuta a fare una prima valutazione della nostra criticità dal punto di vista ambientale nei vari ambiti quindi dall'ambito strategico organizzativo all'ambito produttivo all'ambito tecnico all'ambito logistico eccetera piuttosto che accompagnamento su il disclosure dei dati ambientali oggi ci sono varie metodologie anche legate a delle certificazioni ed è possibile rendere pubblici i propri impatti ambientali qui ne ho citato alcuno come CDP che è un ente no profit anglo tedesco piuttosto che B Corp rappresentano delle metodologie che possono essere seguite per fare la divulgazione dei propri dati ambientali infine per le aziende che desiderano GCP è a mio modo di vedere il partner giusto per essere accompagnati un percorso di decarbonizzazione di crescita del business perché la decarbonizzazione lo ripeto ancora si accompagna non deve essere fine se stessa ma deve accompagnarsi a una visione strategica di crescita del business e quindi il nostro metodo che parte dalla formazione misura le prestazioni ambientali definisce le linee guida di miglioramento costruisce un piano di transizione o un master plan green o lean and green e poi di supporto alla realizzazione di questo piano di transizione o master plan lean and green attraverso quelli che noi chiamiamo i cantieri di miglioramento che cos'è un cantiere di miglioramento un cantiere di miglioramento è un gruppo di lavoro solitamente interfunzionale a cui partecipano persone di più uffici ed è guidato e supportato se lo desiderate da noi dai consulenti GCP soprattutto nelle fasi iniziali ed è un cantiere un gruppo di lavoro che ha obiettivi chiari delle attività da portare avanti è una tempistica ben chiara per realizzare queste attività e portare a casa gli obiettivi lean and green ma e veniamo al tema di oggi vi chiedo scusa per questa lunga presentazione iniziale introduzione iniziale ma ci tenevo ad inquadrare bene il contesto lean and green significa anche contributi per le aziende a favore della sostenibilità attenzione che ci sono sempre più bandi vorrei citare per esempio il bando che è ancora aperto di Simest che prende in considerazione investimenti sulla sostenibilità il bando che si è appena chiuso por FES della regione Veneto che prende in considerazione investimenti sulla sostenibilità vorrei citare i bandi Fondo Sociale Europeo sulla formazione che vanno sempre più nella direzione di formare le persone sulle tematiche legate alla sostenibilità nonché dei fondi interprofessionali come fondi impresa che tirano fuori sempre nuovi bandi su queste tematiche in più ci sono anche i bandi europei cioè quelli gestiti direttamente dalla Commissione Europea abbiamo già fatto diversi webinar nel corso del 2021 su uno dei programmi dell'Unione Europea che è Accelerator che non è specificatamente sui temi green ma più sui temi innovativi che però possono avere un impatto importante sui temi green ma oggi vogliamo parlare del programma LIFE che è un ulteriore programma pensato dall'Unione Europea per aiutare enti pubblici enti no profit aziende organizzazioni aziendali a puntare alla sostenibilità e allora vi presento come relatore di oggi il nostro collega Valentino Necco buongiorno a tutti che è di Milano collabora da noi da diversi anni sulla presentazione dei bandi europei e che ci illustrerà oggi il programma LIFE soprattutto in ottica aziendale ovviamente e ci farà vedere in cosa consiste e come partecipare a te la parola Valentino e scusami per questa introduzione un po' lunga ma spero di aver fatto un inquadramento generale e spero di aver suscitato l'interesse delle persone verso i temi che tratti tu adesso grazie a tutti ok grazie buongiorno a tutti mi presento velocissimamente appunto io mi occupo di programmazione e progettazione europea da diversi anni con James Zincan e Pari e Parter collaboriamo da tempo sulla finanza agevolata diciamo europea e nello specifico anche su LIFE il caso vuole che a fine anno quindi pochissimi mesi fa noi si abbia chiuso un progetto di LIFE che riguardava la soluzione innovative per la raccolta e il riciclo e il riuso di prodotti assorbenti per la persona quindi da una cosa di valore nullo o quasi invece si riesce a estrarre valore e a come dire contemporaneamente l'introduzione che hai fatto tu Alberto è importante in realtà perché se c'è un punto in cui diciamo l'interesse legittimo e fisiologico dell'impresa per il profit si coniuga al perseguimento di obiettivi come dire di bene pubblico è proprio questo è proprio il tema del green perché nel momento in cui noi riusciamo a impattare di meno sull'ambiente a risparmiare risorse a risparmiare carburante o tra l'altro siamo in un frangente in cui il carburante il gas la benzina costano sempre di più evidentemente stiamo facendo un favore non solo all'ambiente ma anche a noi stessi parto adesso però non voglio perdere troppo tempo per cui parto subito con la presentazione verso la tensione ecologica il programma Life 2021-2027 Alberto hai già introdotto un pochino il programma Life è un programma che e non hai condiviso la presentazione Valentino attenzione devi fare share screen in basso chiedo scusa ma ho schiacciato share screen allora se vuoi la condivido io no 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 eccolo qua ok perfetto si vede? si ok chiedo scusa eccoci qua allora verso l'attenzione ecologica il programma Life 2021-2027 appunto non perdo troppo tempo vado subito a dire di cosa parliamo oggi faremo una piccolissima introduzione adesso non so chi di voi abbia eventualmente partecipato ai webinar che abbiamo fatto nei mesi scorsi in cui ci siamo dilungati di più su questi aspetti ma comunque una piccolissima introduzione la facciamo giusto per capire dove ci collochiamo nel quadro appunto della programmazione europea e poi un inevitabile accenno all'European Green Deal e poi quali altri programmi in parte già Alberto li ha citati quindi andremo abbastanza via veloci su questo punto e poi ovviamente ci concentriamo sul programma Life quali sono gli obiettivi cioè sostanzialmente che cos'è a cosa serve e come si partecipa come funziona partiamo direi da qua questo è il bilancio della dell'Unione Europea è il budget dell'Unione Europea vale circa 1300 miliardi di euro come vedete è una cifra altissima non esorbitante se consideriamo che è riferita a una popolazione di centinaia di milioni di abitanti e che appunto è declinata su sette anni parliamo di programmazione europea perché l'Europa cosa fa spende i propri soldi spende il proprio budget nell'arco di sette anni in sette anni quello che è appena finito era il programma in piglio di così si dice in inglese 2014-2020 adesso siamo dentro il 2021-2027 quello che vedete è il budget europeo che viene approvato dalla commissione del Parlamento europeo dopo tra l'altro grandi battaglie politiche insomma ed è diviso in grandi grandissimi capitoli di spesa vedete qua colorati quello che adesso in particolare interessa a noi è quello verde chiaro che accoglie distanziamenti per le politiche sul clima e sull'ambiente e sull'agricoltura storicamente l'agricoltura ha sempre assorbito moltissimo negli ultimi anni direi ultimi decenni la PAC che è la politica agricola comunitaria si è sempre più ridotta e invece ha aumentato sono aumentati i fondi a favore dell'ambiente tutta questa grande massa di soldi che poi viene dalle nostre tasche perché il budget europeo è alimentato dalle imposte raccolte a livello nazionale che poi ritornano sui territori nazionali in diverso modo l'Europa non fa diciamo debiti non emette bond quindi tutta questa grande massa di denaro viene spesa nell'arco di sette anni con questa logica che vediamo qua il budget europeo il bilancio europeo alimenta dei fondi i quali finanziano dei programmi i programmi sono nient'altro che dei piani di spesa pluriennali declinati secondo obiettivi politicamente stabiliti con obiettivi di massima e poi obiettivi più specifici e questi ovviamente sono diversi programmi adesso vediamo velocemente quali sono i principali questi programmi danno vita emettono dei bandi con cadenza variabile e con modalità variabili tendenzialmente annuali ma non necessariamente e dentro questi bandi vengono presentati e selezionati e finanziati dei progetti questo insomma anche per avere un minimo di chiarezza terminologica che ci permetta di distinguere cosa sono i progetti cosa sono i bandi cosa sono i programmi velocissimamente ricordo che questa freccetta grigia che definisci i fondi dovrebbe essere splittata chiedo scusa per la parolaccia in due appunto una parte c'è un mondo che sono i fondi strutturali che conosciamo che Alberto ha appena nominato cioè il FES che è il fondo regionale di sviluppo europeo c'è il fondo sociale europeo che sono i più famosi più conosciuti che sono però gestiti a livello nazionale dai ministeri e più spesso dalle regioni questo in tutta Europa funziona allo stesso modo mentre noi ci concentriamo oggi sui fondi a gestione diretta quindi gestiti direttamente dalla commissione europea che funzionano anche qua anzi vado avanti un secondo vi faccio vedere che funzionano con questa logica qua andiamo molto veloci ma almeno così ci capiamo noi stiamo dentro la colonna di destra cioè non stiamo parlando quando parliamo di bandi di bandi di gara ma di cosiddette call for proposal cioè sono inviti a presentare proposte tecnicamente quindi non parliamo di pagare o di farci pagare per un servizio quindi la logica non è base vale for money cioè il miglior prezzo a fronte di un miglior servizio ma sono elargizioni in senso tecnico cioè sono soldi sono sovvenzioni a fondo perduto che la commissione dà a fronte di progetti quindi non sono fondi che finanziano il soggetto in quanto tale ma finanziano delle attività che un soggetto propone e che vengono selezionate in base al criterio dell'eccellenza quindi stiamo parlando di finanza competitiva e una delle caratteristiche principali che adesso vedremo tra l'altro abbastanza importanti in life è la questione del cofinanziamento perché la logica in questo in questo ambito qua per la commissione europea è quella del cofinanziamento cioè fatto 100 il valore di un'attività di un progetto che noi proponiamo la commissione ci darà sempre una percentuale inferiore a quel 100 può essere 60, 70, 80 a seconda del programma ma chiede che noi come dire ci mettiamo del proprio poi vedremo cosa significa metterci del proprio anzi torno indietro un secondo così molto velocemente questa è una lista non esaustiva di alcuni dei principali programmi europei alcuni forse li ha nominati già Alberto sicuramente c'è Horizon Europe che è uno dei più importanti quello che vedete tra parentesi sono le dotazioni in miliardi di euro Horizon Europe dentro Horizon Europe c'è l'accelerator che conoscerete perché è un programma specificamente dedicato alle piccole e medie imprese Cosme è anche dedicato alle piccole medie imprese poi ce ne sono alcuni dedicati ognuno di questi ha un ambito tematico che il tipo di Europe riguarda i media la cultura Life è quello di cui ci occupiamo oggi Erasmus quello famoso che porta in giro i ragazzi a studiare nelle università in tutta Europa ma non si limita a quello è un grande è un grande programmone dove ci sono dentro tanti sottoprogrammi uno di questi è quello che porta in giro i ragazzi a studiare per Europa nomino Interreg che è un programma abbastanza che è una famiglia di programmi che riguardano la cooperazione transnazionale trasfrontaliera perché è uno dei uno dei programmi per esempio dove progetti che hanno l'ambiente come come posso dire gli impatti positivi sull'ambiente come oggetto sono sicuramente accolti anzi hanno come dire dei bandi specifici su questo tutto questo che abbiamo visto si svolge sullo sfondo di questo grande coso verde che è l'European Green Deal che non è un programma ma è come dire il quadro concettuale che orienta tutta la programmazione di questo settegno per la per la Commissione Europea quindi tutti per noi come dire comuni mortali che come adesso vedremo su live o su altri programmi andiamo a proporre il nostro progettino di riduzione del perché ci siamo inventati il motore nuovo oppure un procedimento un processo nuovo che diminuisce lo spreco di acqua o che ne so le emissioni di CO2 questo grande quadro in parte è molto lontano però in realtà è importante che noi lo si conosca perché tutti i programmi o meglio tutti i bandi fanno riferimento a dei programmi che hanno degli obiettivi di massima i quali a loro volta fanno riferimento a questi grandi obiettivi della Commissione Europea che sono quelli appunto della neutralità climatica e della economia circolare con tra l'altro degli indicatori possiamo adesso qua non voglio dilungarmi troppo però una cosa lasciatemela dire penso che possiate convenire con me che molto spesso quando parliamo di transizione ecologica in molti casi ci accorgiamo che si tratta di uno slogan a volte privo di contenuto ecco per quanto riguarda la Commissione dell'Unione Europea devo dire che tutto sommato con tutte le critiche che si possono fare alla Commissione Europea hanno quantomeno preso seriamente in considerazione il problema cioè la transizione ecologica è una questione molto complessa molto pesante è un passaggio anche epocale molto difficile che siamo chiamati a fare e la Commissione Europea non ha solamente perché questo ha fatto in parte ha vestito di verde alcune cose che alcuni stanziamenti alcune cose che avrebbe fatto comunque però poi ha dato degli strumenti finanziari il programma Life in parte è anche questo ha dato degli strumenti reali e ha anche dato degli indicatori si è data si è data degli obiettivi misurabili come diceva Alberto prima misurare è importante per esempio negli Stati Uniti si parla di Green Deal ma ancora non ci sono degli strumenti di misurazione di raggiungimento dei risultati mentre in Europa questo c'è e quindi noi ci collochiamo dentro questo questo contesto il programma Life in realtà è un programma che preesiste a tutto questo perché è uno dei più longevi della Commissione Europea tra l'altro si chiama Life da sempre la Commissione Europea ha il vizio di cambiare spesso i nomi a questi programmi comunitari invece Life si chiama così da tanti anni ha finanziato migliaia di progetti e adesso vedremo di che tipo sono questi gli obiettivi generali sono sostanzialmente quelli dell'European Green Deal quindi contribuire al passaggio a un'economia sostenibile circolare efficiente in termini di energia basata sulle energie rinnovabili e climaticamente neutra questo è importante gli obiettivi specifici se li vediamo qua adesso sembrano più astrusi di quelli di quelli generali in realtà si tratta appunto di declinare in maniera concreta con dei progetti che appunto impattino in maniera concreta e in maniera possibilmente innovativa ma anche questo adesso lo vedremo in maniera da contribuire a realizzare gli obiettivi gli obiettivi generali che sono poi di fatto quelli dell'European Green Deal questi sono i tipi di azioni finanziabili forse questo slide potevo anche metterla più avanti la mettiamo subito diciamo in premessa che a noi sostanzialmente interessano alle aziende alle piccole medie imprese in particolare interessano quasi esclusivamente diciamo i primi cioè i standard action project che sono i progetti i progetti tra virgolette tradizionali gli altri altri di questi progetti sono progetti di assistenza tecnica oppure grandi progetti che servono per lo più alla tutela di alcune aree naturali o progetti di capitalizzazione di progetti già già finanziati a livello europeo o a livello nazionale quello che ci interessa in particolare invece è questo cioè la struttura del programma il programma ha due grandi due grandi branche insomma due grandi settori uno è quello dedicato all'ambiente e l'altro è dedicato al clima entrambi poi hanno due sottoprogrammi natura e biodiversità economia circolare qualità della vita per quanto riguarda l'ambiente mitigazione e adattamento al cambio climatico e transizione all'energia pulita in totale il budget del programma è superiore ai 5,4 miliardi di euro sul settennato quindi sono come posso dire un bel un bel grussoletto perché insomma tra l'altro è un budget che è stato aumentato dalla passata programmazione approssimativamente calcolate un 3,5 miliardi sul settore ambiente e un quasi 1,9 poco di più sul settore sul settore clima natura e biodiversità adesso li cito tutti poi magari ci fermiamo un po' di più su quelli che ci interessano possono interessare più da vicino le imprese c'è natura e biodiversità i cui obiettivi sono appunto la protezione e ripristino della natura qua diciamo europea perché evidentemente lo scope il target di questi di questi programmi è un target europeo e quindi arresto e inversione della perdita di biodiversità quello che finanzia sono progetti di conservazione della natura e credo di aver messo una slide dopo uno dei riferimenti chiave per questo tipo di progetti è la rete Natura 2000 che è una rete europea di protezione ambientale che copre una vasta parte del territorio europeo e italiano quello in particolare io credo che a noi interessi questa questo questo è uno di quelli che interessa di più mettiamola così dei sottoprogrammi economia circolare e qualità della vita gli obiettivi li vedete è facilitare la transizione verso un'economia sostenibile circolare priva di sostanze tossiche e efficiente dal punto di vista energetico nonché proteggere ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente sono finanziati progetti come vedete scusate faccio una parentesi stiamo parlando di obiettivi abbastanza tra virgolette generici cioè la logica di del programma live è sostanzialmente una logica bottom up cioè date queste quattro adesso le vediamo tutte questi quattro sottoprogrammi che delineano delle aree tematiche la il contenuto dei progetti che vengono presentati è lasciato alla libera iniziativa diciamo dei promotori e questo è importante ricordarlo perché in altri programmi la logica in realtà invece è dall'alto verso il basso è top down per cui per esempio in Horizon non nell'Accelerator ma in Horizon o in altri vengono chieste cose molto specifiche per cui viene richiesto di presentare progetti con degli obiettivi e dei come dire dei limiti molto più stringenti in questo caso quello che ci si chiede quello che viene chiesto è appunto di presentare progetti che abbiano che siano soluzioni innovative oppure migliori pratiche anche questo adesso vedremo meglio di cosa stiamo parlando nell'area dell'accomia circolare nel recupero delle risorse da rifiuti acqua aria rumore suolo eccetera poi c'è questo che è molto importante l'obiettivo del climate change mitigation and adaptation quindi adattazione e mitigazione del cambio climatico evidentemente in un caso si tratterà di progetti che impattano su tutti i fattori che contribuiscono al cambio climatico e altri invece saranno progetti che gestiscono l'adattamento al cambio climatico penso per esempio nel programma Life a tutti quei progetti che sono stati anche finanziati nel corso degli ultimi anni per esempio di flood management cioè noi sappiamo che sta cambiando il clima abbiamo eventi avversi sempre più violenti quindi con non solo temporali ma veri e propri alluvioni in Italia abbiamo avuto diversi casi ma è un problema comune a tutta Europa tutto il mondo e quindi l'Unione Europea la Commissione Europea finanzia anche progetti nel settore appunto dell'adattamento urbano nella pianificazione territoriale della resilienza appunto in qualche maniera dell'adattamento a questi cambi che in parte si riescono a mitigare in parte no e quindi per la parte che non riusciamo a mitigare dobbiamo trovare strategie di adattamento ultimo è Clean Energy Transition questa non dico che ci interessa di meno perché ci interessa moltissimo ma ci interessa di meno nel senso che tradizionalmente tra virgolette facciamo usare questo termine è più appannaggio questa sottoprogramma di enti pubblici o comunque enti che possono agire su sulla chiave della governance l'obiettivo è sostenere il Green Deal europeo e l'unione dell'energia che è un sete di obiettivi energetici e climatici con target 2030 e appunto la decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione Europea al 2050 che appunto fa parte di questo grande European Green Deal quindi le azioni finanziate sono quelle che vedete costruire un quadro politico regionale nazionale locale a sostegno della transizione e attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile ma sempre con una logica come dire di 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 bene pubblico vado avanti perché questo mi permette di fare questo qua è la rete natura appunto per chi dovesse cimentarsi in un progetto di non credo che siano tantissimi di voi ma lo dico per cultura generale dovesse cimentarsi in un progetto di vera e propria salvaguardia naturale o di qualche specie o di qualche ambiente protetto la rete di Natura 2000 sarà sicuramente un un riferimento importante ok qua è saltato un pezzettino comunque l'ha detto prima Alberto chi può partecipare può partecipare chiunque cioè nel senso a parte le persone fisiche possono partecipare enti pubblici enti privati di qualsiasi dimensione quindi piccole grandi medie imprese ONG ovviamente quindi associazioni non è obbligatorio c'è scritto la partnership trasnazionale questo è un punto importante è un punto molto importante perché di norma i progetti europei esigono una partnership trasnazionale di solito di tre soggetti diversi appartenenti a tre stati membri diversi questo è di solito il minimo sindacale in realtà poi all'atto pratico in molti programmi il numero di parte e il numero di paesi è molto è molto superiore il fatto che sia possibile partecipare singolarmente o comunque con una piccola partnership tutta italiana o tutta tedesca voglio dire siamo in Italia parliamo di Italia questo non toglie che però stiamo parlando di progetti europei ok quindi due avvertenze una generale come ho detto prima non stiamo parlando di finanziamenti per la mia impresa ma per un progetto che la mia impresa sta presentando che è una cosa abbastanza diversa cioè non stiamo non stiamo chiedendo contributi europei per cambiare i nostri macchinari e consumare meno energia o inquinare di meno stiamo chiedendo soldi perché ci siamo inventati un nuovo macchinario o una nuova procedura per consumare di meno quindi qualcosa che sia scalabile al di là della nostra realtà ma di quello di cui volevo parlare è appunto la questione del valore aggiunto europeo cioè noi possiamo presentare progetti anche solamente italiani però vale sempre la logica europea chiedo scusa io spero che non si sentano rumori di fondo va bene così Valentino vai avanti ci sono cantieri dappertutto qua a Milano il bonus fiscale ha funzionato molto quindi c'è un cantiere ogni 10 metri quadri per cui si sentono rumori di fondo dicevo l'importante è ricordarsi che esiste una cosa che si chiama valore aggiunto europeo quindi l'Unione Europea mi dà dei soldi per fare un progetto che può essere come dire anche localizzato in Italia ma che deve avere una ricaduta quantomeno potenziale a livello europeo ok quindi se noi riusciamo a dimostrare se noi dobbiamo dimostrare che questo valore europeo del nostro del nostro progetto c'è che c'è una ricaduta tipicamente le cose ambientali diciamo così sono sono cose che riguardano un po' tutti per cui tendenzialmente se io trovo una soluzione per inquinare di meno una procedura industriale per limitare l'uso di sostanze inquinanti questo evidentemente è una cosa che non riguarda solo il Veneto non riguarda solo l'Italia riguarda l'Europa in generale però deve avere comunque una dimensione l'impatto perlomeno se non il mio progetto ma l'impatto del mio progetto è una dimensione trasnazionale e trascontragliera e qua vediamo al quanto il budget del del programma abbiamo visto che è oltre circa 5 miliardi e mezzo di euro il budget dei progetti che questo programma finanzia ecco qua io ho messo un taglio medio ok mentre in alcuni programmi l'accelerator di cui diceva Alberto prima i limiti sono chiari cioè si va da mezzo milione di euro a due milioni e mezzo di euro nel programma Life possiamo arrivare a 5 6 10 15 milioni di euro non c'è un tetto massimo diciamo che nella media e soprattutto per i progetti che personalmente interessano a noi 1 barra 3 milioni di euro è il range nel quale ci muoviamo meno di un milione diciamo che fino a mezzo milione anche Life finanzia però calcolate che i progettini quelli da mezzi io richiamo progettini insomma magari per un'impresa già fare un progetto da 6-700 mila euro è un impegno però quelli piccolini la commissione e questo vale non solo per Life tende a scartarli perché ragiona e credo anche giustamente sul fatto che quelli piccoli hanno un impatto piccolo per cui tenderà a privilegiare quelli che hanno un impatto un po' più un po' più grande qua dentro vedete un grande caos di percentuali io però ho sottolineato evidenziato il 60% perché ci sono dei casi in cui la percentuale è diversa ma fatto 100 il valore del nostro progetto in Life la commissione europea ci riconoscerà fatto 100 euro diciamoci ce ne riconoscerà 60 quindi ecco se voi prendete il 60% non sbagliate in alcuni casi sarà superiore ma noi teniamo buono il 60% il 60% è meno diciamo così di quello che la commissione finanzia in altri settori in altri programmi che di solito è il 70% in alcuni casi arriva all'80 85 il 100% non è quasi mai finanziato a parte la ricerca di base quindi di solito le università e alcune ONG sostanzialmente che fanno che non sono soggetti a scopo di lucro dicevo 60% è tanto non è tantissimo ed è il motivo per cui io consiglio sempre alle imprese di approcciare life se hanno una un'idea interessante sulla quale sono come posso dire motivate perché è chiaro che se il finanziamento è il 100% io dico ci provo io sconsiglio sempre di provarci per provarci insomma però abbiamo il 100% dei costi finanziati anche se la qualità del mio progetto non è alta anche se in realtà non avevo grandissimo interesse a farlo provo magari mi trovo dei soldi in casa ecco in questo caso ci vuole come dire un investimento anche da parte nostra quando parlo di investimento questa è una cosa che mi preme sempre chiarire non sto dicendo che se io faccio un progetto di appunto riduzione dell'inquinamento in un determinato ambito industriale faccio un esempio a caso questo non significa che se il valore del progetto è 100.000 euro io devo mettere 40.000 euro cash ok è semplicemente il fatto che io spendo 100.000 euro in questo progetto la commissione me ne riconosce 60 tendenzialmente il 40% viene di solito coperto dalle spese di personale dell'azienda questo evidentemente è abbastanza facile io nella mia esperienza posso dirvi che tutti quelli i partecipanti che ho visto partecipare appunto a live hanno tranquillamente coperto tutte le spese tra virgolette vive del progetto e anzi ne hanno avuto un sovra più evidentemente diventa difficile coprire il 40% di ammontare magari di un milione di euro vuol dire 400.000 euro ecco 400.000 euro in spese di personale anche se fossero su due tre anni perché questa è la durata media di un progetto è facile da coprire per un'azienda che ha dei dipendenti per una start up o una micro impresa che ha due o tre dipendenti diventa più problematico però anche questi anche questi problemi si riescono ad aggirare tra l'altro appunto noi come Giannisci in Canipari e Paltre siamo qui anche per aiutarvi a eventualmente a gestire questi aspetti comunque insomma riassumendo 60% è il finanziamento della Commissione Europea del valore dei nostri progetti le spese ammissibili sono queste qua personale viaggi servizi esterni questo subcontratti massimo 35% del budget è un un tetto che la Commissione ha messo per le spese che vengono date come dire in outsourcing che significa la logica è questa se io ti do 100 euro per fare una determinata attività per implementare un certo progetto e vedo che tu dai fuori 90 euro io Commissione Europea che sono l'investitore mi chiedo sto finanziando te o sto finanziando qualcun altro chi è veramente il detentore dell'idea chi è il detentore del know-how chi ha le competenze e anche la mission di fare quella cosa lì quindi ha messo questo tetto l'avvertenza è che dobbiamo aspettare per questo 2022 i prossimi bandi per vedere se questo tetto è confermato ma penso di sì poi ci sono i beni durabili scusa Valentino prego è un tetto naturalmente sui servizi non su investimenti no 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 è un tetto sui servizi è un tetto sui servizi significa che se io i servizi possono essere qualunque cosa perché se adesso con la pandemia purtroppo speriamo che insomma sia finita questo incubo ma negli anni scorsi questi progetti soprattutto se avevano partecipi internazionali avevano anche degli eventi per cui banalmente i servizi esterni può essere anche il catering nel momento in cui tu inviti dieci partner da dieci paesi europei possono essere servizi di consulenza esterna di ingegneri di studi di consulenza che fanno delle parti essenziali ma non assolutamente fondamentali cioè quelle devono restare in capo al beneficiario principale del progetto in questo caso il totale dei subcontracting è il 35% poi ci sono materiali di consumo e poi ci sono queste spese generali che gonfiano un po' quel 60% perché sul totale dei costi diretti la commissione riconosce un 7% in più che coprirebbero le spese generali trasversali di amministrazione del progetto penso che sia tutto chiaro tu Alberto fermami pure se c'è qualcosa che non è chiaro allora Valentino ti fermerei ci sono ci sono un paio di domande no? allora dai così facciamo una piccola piccola pausa siamo addirittura d'arrivo quindi dai dai comunque la prima domanda è di Marta come faccio a capire se la mia idea è nuova cioè non è già stata presentata da qualcun altro ed è finanziabile con il progetto Life allora se la tua idea non è è nuova non è nuova la mia risposta è banale devi saperlo tu in prima persona cioè non Genesine Canipari Partner o chi per lui ti può aiutare cosa sicuramente se ti affidi a qualcuno a fare come dire uno scout una ricognizione tra l'altro esiste esistono dei database dei progetti già finanziati dove andare eventualmente a vedere innanzitutto per farsi un'idea e in secondo luogo appunto per cercare di capire se la tua idea è già stata finanziata o c'è già qualcosa di molto simile però su questo punto lasciamo dire una cosa importante prima dicevo innovazione allora due tre precisazioni Life è un programma che finanzia tutti i progetti che hanno un impatto positivo sull'ambiente non finanzia la ricerca cioè la ricerca le spese di ricerca dentro Life sono ammesse solo in piccola parte se sono funzionari allo sviluppo di qualcosa e non finanzia neanche se vogliamo l'innovazione in quanto tale finanzia soluzioni innovative che abbiano un impatto ambientale ma cosa cosa intendiamo per soluzioni innovative se prima ricordate c'erano soluzioni innovative o migliori pratiche questo significa che c'è tutta una gradazione per cui ci sono finanziamenti in Life che finanziano innovazioni che possono essere addirittura disruptive cioè dirompenti che potenzialmente questo lo aggiungo io potrebbero probabilmente essere finanziati anche da Horizon o dall'Accelerator oppure finanzia l'adozione di buone pratiche che significa che cosa che io posso da un settore diverso applicare a un altro settore delle soluzioni che non sono innovative di per sé ma che in un determinato settore non so da un settore industriale lo porto alla conciatura delle pelli dico un caso un ipotesi a caso e in quel in quel caso potrebbe darsi che quella pratica di riduzione dell'impatto ambientale di riduzione del consumo di acqua o di risorse possa essere applicata in maniera innovativa in un altro in un altro ambito industriale tecnologico o non so di pianificazione urbana per esempio ecco teniamo conto e quindi comunque possiamo dire che effettivamente per rispondere in sintesi a Marta la prima scusa la prima una delle prime fasi proprio del progetto è capire se c'è qualcosa di simile in giro perché se c'è qualcosa di simile in giro è chiaro che le possibilità di successo della presentazione della domanda si abbassano la seconda domanda che ti facevo non è detto però non è detto non è detto dipende da dove lo applichi certamente poi seconda domanda quando un progetto l'hai già detto ma insomma lo rispecifichiamo quando un progetto viene definito di piccola entità rimanendo al tema di life ovviamente di questo programma sì sì sono i 500 mila euro e la soglia cioè 500 mila euro è la soglia minima formale ma posso dire che non ci sono progetti da 500 mila euro finanziati ok dove 500 mila euro vuol dire dove il contributo della commissione europea è 350 mila euro la commissione preferisce darne 3 milioni e mezzo piuttosto che 350 mila come logica va bene direi andiamo verso la conclusione del nostro andiamo verso la conclusione ecco questo è importante questo è molto importante credo per le imprese esiste una tipologia che non è formalizzata in un sottoprogramma in qualche maniera trasversale in pratica è concentrata probabilmente nel sottoprogramma che abbiamo visto prima che sono i come si dice chiedo scusa torno un attimo indietro così almeno eccolo qua economia circolare e qualità della vita questi che abbiamo appena visto i progetti close to market tendenzialmente finiscono collocati in quel sottoprogramma lì e sono quello che stavo dicendo prima sostanzialmente cioè life ammette e in questo è abbastanza vicino come logica all'accelerator cioè aiuta le aziende a portare sul mercato nuove tecnologie servizi e processi che hanno un impatto positivo sull'ambiente sull'aria sull'acqua e perché è importante ricordare questo perché noi appunto con le aziende Alberto tu lo sai bene abbiamo molti rapporti in particolare con l'accelerator che è un programmino un programma all'interno di Horizon fatto apposta per finanziare l'innovazione tecnologico industriale dove ovviamente c'è una sorta di plus se c'è l'impatto positivo sull'ambiente ma dove non è focalizzato su quello life ha in realtà come dire una logica non profit mentre l'accelerator vuole che tu impresa con la tua innovazione finisca sul mercato e faccia e faccia i soldi perché la commissione ragiona in quel caso esattamente come un fondo di investimento privato come una banca che dei soldi vuole che tu abbia un ritorno perché vuole un ritorno anche lei con life la logica è leggermente diversa la logica è quella come dire di un ritorno non monetario non economico ma un ritorno positivo sull'ambiente ciò nonostante esistono questi progetti close to market dove le aziende sono comunque aiutate a finire sul mercato dove la logica la logica è che se io mi invento anche qua vado facendo esempi di fantasia ma se mi invento un condizionatore d'aria qua a Milano negli anni scorsi l'estate c'era il black out ogni tanto perché c'era talmente caldo che tutti avevano acceso i condizionatori e intanto saltava la rete elettrica e se dovessi inventarmi un condizionatore che consuma un decimo evidentemente questo avrebbe un impatto molto positivo sui consumi sui consumi di energia allora la logica è aiutare l'impresa che ha un'innovazione del genere ad andare effettivamente sul mercato ovviamente deve essere un condizionatore che non solo consuma dieci dieci volte di meno ma che ha un prezzo accessibile e che sia che sia possibile appunto industrializzare o commercializzarlo eccetera in questo caso c'è come dire una sorta di sovrapposizione tra life e la logica dell'accelerator penso anche qua fammi delle domande Alberto se non è chiaro però questo penso che sia abbastanza importante interessante per le piccole medie imprese tutto chiaro direi andiamo a vedere qualche esempio eccolo qua questo è un esempio di un progetto close to market finanziato abbastanza di recente dalla commissione europea che riguarda ecco qua c'è una sintesi molto veloce il riciclo del lievito esaurito dei produttori in questo caso di birra per nuove applicazioni industriali innovative questo progetto come vedete qua il budget totale del progetto era quasi di 4 milioni di euro e ha ricevuto quasi un milione e 6 di contributo qua c'è un altro carino che si chiama Life Digital Live questo è guarda quello di prima francamente non mi ricordo questo sicuramente è stato chi è stato finanziato è un'azienda italiana dell'Emilia Romagna ovviamente stiamo parlando di piastrelle quindi il distretto è quello lì di Reggio Emilia di Sassuolo e in collaborazione se non ricordo male con l'università quindi penso che i beneficiari fossero un paio e si sono inventati delle nuovi sistemi innovativi di creazione delle superfici delle piastrelle sono piastrelle che peraltro hanno delle qualità molto importanti anti odore antibatteriche eccetera e gli obiettivi erano appunto quelli di ridurre drasticamente nella fase di produzione industriale la quantità di biossido di titanio utilizzato e smaltito come rifiuto e il consumo di energia ed acqua tra i risultati appunto sono quelli che vedete sono stati progettati ottimizzati nuovi inchiostri per la stampa digitale perché questa era una delle innovazioni veniva utilizzata la stampa digitale realizzata un impianto pilota che ha avuto questi risultati un consumo del meno 44 di energia e del meno 95% poi a livello questo nell'impianto pilota poi a livello globale diciamo industrializzando la cosa il consumo di acqua era ridotto di meno ma comunque attorno al 40% e quindi poi sono stati testati ottimizzati processo di stampa digitale e sono state analizzate nell'ambito di questo progetto che anche questo qua come vedete attorno ai 3 milioni di euro sono state analizzate le prestazioni in termini di benefici ambientali quindi alla fine il consumo di biossido di titanio è stato ridotto del oltre il 50% e gli sprechi industriali sono stati quasi totalmente ridotti tra l'altro questo questo finanziamento della commissione europea ha indotto il beneficiario a fare ulteriori investimenti quindi è stata una leva per ulteriori investimenti di altri se non ricordo male 5-6 milioni di euro e questa produzione adesso è in corso insomma è ongoing e sta sta avendo successo io Alberto ho altri ho altri esempi se vogliamo ma penso che ci siano abbastanza indicativi insomma di quello che si può fare all'interno di un di un bando di un bando live sono indicativi sia la durata sia come posso dire l'entità economica del progetto bene ti ringrazio Valentino ti chiederei di togliere la condivisione della presentazione così ti vediamo meglio ecco qua grazie allora c'è un'altra domanda ed è questa come fare per partecipare ai webinar formativi presentati nella parte iniziale della presentazione e se sono gratuiti allora noi periodicamente con i nostri canali social piuttosto che il sito piuttosto che la newsletter promuoviamo gli eventi il prossimo evento Lean and Green è previsto per la seconda parte di marzo e toccherà una tematica molto sentita in questo momento e cioè la tematica dell'energia dei costi energetici e della gestione dell'energia per capire anche che cosa si può fare di solito sono gratuiti qualcuno è stato a pagamento di solito comunque questi webinar sono gratuiti avrei invece una domanda invito tutti se qualcuno ha delle domande a scriverle nella chat che poi io le rivolgo direttamente a Valentino io ne ho una Valentino facile e cioè quanto può durare parliamo della presentazione della domanda ok cioè della fase di progettazione mediamente quanto può durare anche perché come dire i requisiti i testi le informazioni che l'Unione Europea hanno una certa complessità insomma nella raccolta e nella formulazione quindi quanto può durare un progetto per arrivare a presentare la domanda è una cosa che si fa dall'oggi al domani o è una cosa che richiede una certa pianificazione quanto dura la presentazione diciamo solo la parte fino ad arrivare alla presentazione della domanda poi sta all'Unione Europea ovviamente sicuramente richiede una pianificazione ma l'abbiamo visto con la domanda di prima già nel momento in cui io ho in pancia una possibile innovazione la prima cosa che devo fare è capire che è portata a questa innovazione poi la seconda cosa da capire è se e quanto è necessaria una partnership perché come vi ho detto non è finanziata la ricerca in quanto tale però in certi casi può essere funzionale e quindi anche in qualche maniera funzionale a una favorevole valutazione della nostra idea avere dei partner che sono in grado di fare magari meglio delle parti di progetto che noi non siamo in grado di fare questo potrebbe essere il caso per esempio di una università che svolge o una parte di ricerca o per esempio una parte di validazione dei risultati quindi c'è una parte che riguarda l'idea che è di valutazione dell'innovatività dell'idea una parte di eventuale costruzione della partnership una parte di scrittura evidentemente perché ci sono dei format va scritto in inglese va scritto in maniera convincente e cercando il più possibile di convincere il valutatore che noi stiamo effettivamente rispondendo per quello prima abbiamo parlato anche perché nella fase di scrittura bisogna fare riferimento agli obiettivi del programma agli obiettivi del bando ma a sua volta agli obiettivi del programma e possibilmente ai grandi obiettivi quindi più è chiaro che il nostro progetto sta contribuendo al raggiungimento di quegli obiettivi più chance abbiamo che venga finanziato possiamo dire diamoci come un orizzonte 5-6 mesi ah sì forse sai che abbiamo sì perché c'erano un po' di altri di altri esempi di progetti non volevo farla troppo lunga l'ultima slide ma questa la posso tranquillamente dire a voce anche perché non è ufficiale ma è ufficioso l'orizzonte temporale che abbiamo davanti è abbastanza buono direi che anzi forse ottimale perché la data di apertura dei bandi tutti i bandi di live di quest'anno è a metà maggio dovrebbe essere il 17 maggio poi vediamo se non ci saranno ritardi o modifiche i bandi di live dovrebbero aprire il 17 maggio e le scadenze che poi è la la data chiave in realtà variano a seconda della tipologia probabilmente per gli standard action project che sono quelli diciamo i progetti normali dovrebbe essere a inizio ottobre una cosa una cosa da ricordare è che adesso questo però lo vedremo a maggio i progetti possono essere single step o double step per cui in alcuni casi nelle passate tornate diciamo dei bandi live c'era una short application e una full application quindi si presentava un'idea di massima in una decina di pagine poi se questa veniva approvata si veniva invitati a presentare una proposta più estesa che era poi quell'oggetto della selezione finale che dava o meno accesso al finanziamento oppure come penso che sarà quest'anno sarà single step quindi da maggio a ottobre è il tempo che ci dobbiamo prendere per presentare i progetti live ovviamente se uno arriva a maggio già con un'idea formata o comunque abbozzata tanto meglio ecco aggiungo se qualcuno è interessato alle tematiche lean and green e in particolar modo a sviluppare presentare valutare un'idea legata al programma live può contattare il nostro marketing e poi naturalmente vi verrete ricontattati ci sentiamo ne parliamo anche con una video call fatta esclusivamente con voi in modo tale da valutare l'idea capire se ci sono delle possibilità che questa idea abbia delle chance di essere approvata ovviamente ecco lasciami dire una cosa Alberto una cosa velocissima che sulla questione del green molto più che su altri che in altri ambiti vale la pena davvero credo farci una pensata nel senso che appunto se non è live uno potrebbe rendersi conto che potrebbe potrebbe essere interreg se non è interreg potrebbe essere un bando regionale o viceversa potrebbe essere detto prima anche accelerato appunto esatto quindi comunque se l'ipotesi di lavoro ha un impatto green vale comunque la pena lavorarci perché le opportunità sono non dico plurime ma sono più dure darei spazio a un'ultima domanda e cioè di Andrea mediamente quanto tempo necessita la commissione per dare risposta alla domanda presentata bella domanda allora mentre sull'acceleretto fortunatamente brevissima sul live è un po' di più io direi che sono se se la scadenza sarà i primi di ottobre io credo che sarà per primavera 2023 la partenza dei progetti ok quindi sei mesi circa sì anche meno anche meno ma dice ora che si parte un sei mesi ecco una cosa che è importante forse da dire alle imprese è che life è abbastanza noiosa la parte questo ve lo dico perché anche come Giannisi in Canepari ce ne occupiamo la parte di rendicontazione nel senso che life è un programma fatto molto bene gestito molto molto bene dove viene speso praticamente tutto il budget dove però diciamo di contro la commissione chiede di essere molto precisi nella rendicontazione però i finanziamenti funzionano per tranche per cui immediatamente nel momento in cui uno vede approvato il suo progetto riceve istantaneamente anche se poi di fatto c'è una rendicontazione a posteriori riceve subito delle tranche di anticipo per cui non c'è neanche tensione finanziaria e nel momento in cui c'è il grant agreement che è diciamo l'accordo formale con la commissione europea nel giro di credo 30 giorni arriva il bill denaro sul conto corrente bene permettetemi una breve conclusione al termine di questo webinar che spero sia stato interessante per tutti allora abbiamo visto durante questo webinar una disamina del programma LIFE che è un importante programma che facilita e aiuta anche le imprese non solo le imprese ma anche le imprese e le nostre PMI nel portare avanti dei progetti di sostenibilità ambientale abbiamo visto però anche quali sono brevemente è vero ma abbiamo visto quali sono i sette pilastri dell'in and green abbiamo visto cosa significa l'in and green significa formazione abbiamo visto che significa un piccolo diagnostico che viene messo a disposizione online delle aziende per fare una prima valutazione sul proprio impatto ambientale abbiamo visto che significa divulgazione dei dati misurazione divulgazione dei dati ambientali abbiamo visto che significa affiancamento con i cantieri di miglioramento operativi che possono portare dei benefici in termini di impatto ambientale e riduzione dei costi ambientali e abbiamo visto che significa naturalmente contributi a disposizione delle aziende delle PMI per portare avanti questo piano di transizione un grazie a tutti i partecipanti un grazie a Valentino per la collaborazione il prezioso contributo e al prossimo webinar l'in and green l'in and green Grazie a tutti.